buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento targato engine software dedicato al mondo della deformazione dei metalli io sono federico fracasso e sono responsabile dell'attività di simulazione di deformazione plastica qui in engine software target della presentazione odierna sarà la progettazione appunto delle attrezzature di stampaggio metalli faremo quindi una breve panoramica di introduzione alle principali difettologie o meglio le principali problematiche del mondo della deformazione metalli in merito alle attrezzature di stampaggio valuteremo tre macro ambiti quindi l'analisi dell'usura delle attrezzature l'analisi di tensione delle attrezzature e poi il campo del blindaggio delle attrezzature quindi qualcosa questo ultimo appunto più dedicato lo stampaggio a freddo questi tre macro ambiti appunto in cui il software di simulazione ci possono dare come vedremo una grandissima mano per ridurre i tempi e costi di sviluppo quando noi parliamo di attrezzature di stampaggio noi andiamo a valutare due ambiti principali uno il discorso della forma del nostro della nostra attrezzatura una forma che deve essere pensata e ottimizzata al fine di ottenere un determinato componente ma andiamo anche a valutare quella che è la parte relativa alle sollecitazioni stesse che subisce che subiscono queste attrezzature e quindi alla loro durata i principali principali cause diciamo di di cedimento delle nostre attrezzature sono quelle che vediamo qui rappresentate quindi problematiche essenzialmente di usura delle attrezzature rotture improvvise e soprattutto per i processi ad elevata temperatura con i processi di stampaggio a caldo problematiche di fatica meccanica ma soprattutto di fatica termomeccanica quindi questi quattro macroambiti dovrebbero essere analizzati in dettaglio da coloro che si occupano della progettazione del ciclo produttivo perché questo perché se noi dobbiamo vedere il costo finale del nostro componente il costo delle attrezzature talvolta può aggiungere percentuali importanti si può arrivare fino a un 15 per cento del costo finale del pezzo quindi ovviamente da un punto di vista del produttore è innegabile la necessità di andare ad ottimizzare le prestazioni dei nostri dei nostri stampi e delle nostre attrezzature e ovviamente da un punto di vista del cliente finale questo si ripercuote in un minor costo finale del componente quindi dobbiamo cercare di aumentare il più possibile il numero di pezzi prodotti con un singolo set di attrezzature e al contempo dobbiamo quindi ridurre i costi di produzione dovuti a fermi impianto per manutenzione o per cambio stampi a dirà poi di un'ovvia questione energetica ed ecologica sul consumo sul consumo dei materiali come possiamo vedere la maggior parte del del cedimento comunque delle sostituzioni delle attrezzature sono dovute a fenomeni di usura e quindi questo rivestrà una gran parte poi anche come vedremo della nostra della nostra presentazione quota parte minore la fatica meccanica e molto meno importanti o comunque molto meno influenti sono processi di problematiche di fatica termica e di deformazione plastica questo perché appunto solitamente gli stampi sono ben progettati e difficilmente si hanno rotture sulle sulle veri e proprie sulle attrezzature se non per questioni di sovraccarichi o episodi fortuiti ecco dal punto di vista della simulazione che aiuto possiamo possiamo avere ma sicuramente la simulazione ci permette di capire quali sono i meccanismi di cedimento che si vanno ad instaurare nel nostro processo produttivo quindi ci permettono di modellare in maniera più precisa più corretta il fenomeno dell'usura e i fenomeni dei tensionamenti delle deformazioni date da dal carico meccanico del carico termo meccanico e ci permettono ci permette la simulazione di migliorare come trovare la migliore combinazione dei parametri produttivi dal punto di vista geometrico dello stampo dal punto di vista delle temperature da un vista della lubrificazione da un punto di vista del dei carichi pressa ecco quando noi parliamo di attrezzature ovviamente noi comunque di attrezzature per deformazione plastica dei metalli noi noi ci riferiamo a diversi tipi produttivi diversi tipi produttivi conseguentemente ogni processo produttivo va a identificare diversi fattori di influenza qui ho fatto un breve riassunto di quelli che sono i fattori di influenza principali partiamo sicuramente dal design delle attrezzature in termini di forma di complessità passando poi alla parte di materiale quindi il materiale con cui è costituita quell'attrezzatura ma non solo il trattamento termico che ha subito quell'attrezzatura e che può aver modificato la la struttura e le caratteristiche meccaniche stesse il processo di costruzione di questa di questa attrezzatura in funzione appunto del tipo di processo noi abbiamo possiamo ottenere diversi livelli di rugosità superficiale questa rugosità va a influenzare quelli che sono i fenomeni di attrito e di conseguenza quelli che sono poi i comportamenti essenzialmente ad usura ovviamente il materiale che noi stiamo andando a deformare le condizioni di lubrificazione le condizioni di processo come ad esempio il parametro di pressa e la manutenzione stessa che ha subito questa questa attrezzatura come possiamo vedere quindi i fattori di influenza sono molti e la loro combinazione si ripercuote in maniera estremamente variegata su quelle che sono le durate delle nostre attrezzature dicevo l'usura principale causa di sostituzione delle attrezzature può essere modellata sia nella teoria che poi in simulazione attraverso due modelli principalmente un modello standard che tiene conto della pressione normale che il materiale in deformazione va a scaricare sulle attrezzature e la velocità di scorrimento quindi la velocità relativa del materiale in deformazione sull'attrezzatura qui possiamo vedere l'equazione che governa questo questo modello di usura come possiamo vedere questo modello non tiene conto della temperatura a cui si svolge il processo e viene solitamente utilizzato in analisi preliminari in cui si considera lo stampo come infinitamente rigido mi fornisce comunque un'indicazione qualitativa dell'usura come possiamo vedere in questa questa immagine il software la simulazione diciamo ci permette di valutare quelle che sono le zone a più alto rischio di usura aumentando il livello di precisione di qualità del risultato noi possiamo passare al modello via shard è un modello che oltre a tener conto della pressione che il materiale in deformazione va ad applicare superficie dello stampo e la velocità di scorrimento tiene conto anche della durezza superficiale dell'attrezzatura del materiale costituente l'attrezzatura di stampaggio la quale è dipendente dalla temperatura quindi mi fornisce delle indicazioni quantitative sull'usura ed è applicabile essenzialmente ad analisi a stampo deformabile quindi in questo caso consideriamo la deformabilità dell'attrezzatura vediamo quindi un esempio in cui questi due modelli sono stati applicati qui stiamo parlando di uno stampaggio warm forming quindi circa 800 gradi di un acciaio il componente da ottenere un giunto omocinetico gli obiettivi di questa analisi sono appunto l'analisi dell'usura del punzone il confronto tra i due modelli modello base di provisione dell'usura il modello di hashard valutando l'influenza della temperatura di stampaggio la temperatura iniziale del nostro punzone implementando poi la parte di regime termico dell'attrezzatura cioè oltre al discorso di usura noi vogliamo valutare dopo quanti colpi raggiungiamo la stabilità termica della nostra attrezzatura quindi le condizioni di regime termico il primo caso studio la prima analisi che andiamo a fare su questo caso studio è relativa al modello base di usura quindi un'analisi a stampo infinitamente rigido come abbiamo detto applichiamo il modello standard su uno stampo che su un punzone che ha una temperatura costante di 200 gradi la temperatura iniziale di 200 gradi qui possiamo vedere come evolve l'usura sulla testa del punzone a diversi step di stampaggio quindi a 10 mm dal fine corsa 6 4 e alla fine dello stampaggio ebbene sono ben evidenti le zone a maggior rischio di usura oltre appunto al modello al modello standard siamo andati ad applicare il modello di hashard cioè il modello che tiene conto della deformabilità dell'attrezzatura e tiene conto della durezza stessa dell'attrezzatura e tiene conto del riscaldamento che subisce la nostra attrezzatura durante lo stampaggio vediamo qui l'evoluzione della mappa di usura secondo il modello di usura hashard e l'evoluzione della temperatura sul punzone negli ultimi nell'ultimi millimetri di corsa di stampaggio possiamo quindi confrontare questi due modelli e notiamo come entrambi i modelli mi identifichino delle zone molto simili per quanto riguarda il rischio di usura quindi possiamo vedere nel raggio di raccordo del naso del punzone in entrambi i casi questa zona laterale e le zone di raccordo dei tre lobby è interessante notare come mentre più o meno in tanti modelli identifichino come zone più rischiose più o meno le stesse aree è interessante notare come il modello di hashard evidenzi come meno critica questa zona laterale rispetto al modello standard adesso che abbiamo valutato l'influenza dei due modelli andiamo però a fare un passo avanti considerando il regime termico dello stampo quindi diciamo ok noi abbiamo implementato un'attrezzatura che l'analisi a stampo rigido rimane a 200 gradi per tutto lo stampaggio nell'analisi a stampo deformabile parte da 200 gradi ma evolve durante lo stampaggio vogliamo vedere cosa significa ripetere questa operazione n volte fino al raggiungimento di una stabilità termica ecco che andiamo attraverso la simulazione a ripetere l'operazione di stampaggio costituita in questo caso da cinque secondi di attesa del pezzo dentro dentro gli stampi una fase di stampaggio e la fase di lubrifica e quindi va ad abbassare localmente il campo il campo termico il range o meglio l'andamento di temperatura registrato durante uno stampaggio viene replicato in maniera iterativa fino al raggiungimento del di una convergenza sulla temperatura massima registrata sul punzone come possiamo vedere dal grafico qui andiamo ad applicare sul punzone il medesimo ciclo termico fino al raggiungimento di un di un plateau diciamo di una di una stabilità ecco che se noi andiamo a confrontare le distribuzioni termi di temperatura dopo un colpo e dopo 80 colpi ci accorgiamo di notevoli differenze tra i due punzioni quindi se noi andassimo adesso a costruire una scala di precisione noi dobbiamo fare una prima analisi per capire per capire dove dove andare a lavorare dal punto di vista dei parametri di processo e dal punto di vista delle geometrie ecco che partiamo con l'analisi stampo rigido col modello di usura standard che ci fornisce alcune prime indicazioni passando poi il modello a stampo deformabile col modello di a shard a un singolo colpo infine passiamo a un modello a stampo deformabile col modello di a shard ma dopo aggiungimento di della stabilità termica quindi della condizione di stili state infatti questo ci permette di valutare come dopo un singolo colpo noi abbiamo una determinata distribuzione di usura e qui possiamo vedere come il naso del punzone e la parte laterale siano più o meno nella stessa gravità passatemi il termine mentre dopo 80 colpi il naso è sicuramente in condizioni ben peggiori rispetto alle zone laterali quindi quando noi facciamo la progettazione di un attrezzatore dobbiamo considerare tutti questi tutti questi parametri tutte queste variabili abbiamo parlato di analisi a stampo rigido abbiamo parlato di analisi a stampo deformabile ci sono diverse tipologie di analisi che noi possiamo andare a mettere in atto quando parliamo di attrezzature in particolare quando noi ci rivolgiamo alla parte meccanica dell'analisi delle attrezzature quindi tensioni e deformazioni le tre principali famiglie di analisi che possono essere condotte sono le analisi a stampo rigido le analisi a stampo deformabile queste divise in misaccoppiate o accoppiate da un punto di vista della precisione la più bassa comunque livello più base più basico della di questa analisi sicuramente l'analisi a stampo rigido perché non permette di valutare né le deformazioni nei campi nei campi termici però al suo vantaggio c'è da dire che è un'analisi estremamente rapida che mi fornisce delle indicazioni qualitative come abbiamo visto di di primo indirizzo posso poi fare un'analisi disaccoppiata nella quale analisi a stampo deformabile disaccoppiata nella quale acquisisco i risultati di pressione quindi carichi meccanici nell'analisi a stampo rigido li vado ad applicare come condizione di carico ad un singolo stampo deformabile quindi questo mi permette di valutare in un secondo step quelle che sono le deformazioni e i campi tensionali presenti nella mia nella mia attrezzatura di stampaggio è un'analisi leggermente più lunga sicuramente più precisa che però non mi permette ancora di considerare il campo termico quindi un'analisi che funziona piuttosto bene nel caso di stampaggio a freddo nei quali carichi termici possono essere abbastanza ridotti tutto sommato se noi vogliamo fare cose fatte bene e precise quando poi parliamo di stampaggio a caldo ecco che dobbiamo passare l'analisi accoppiata nella quale nella medesima simulazione andiamo a sviluppare sia il carico meccanico che il carico termico un altro esempio relativamente all'analisi dell'attrezzatura ci viene dato da uno stampaggio di un albero a gomiti e operazione di performatura queste le indicazioni geometriche di peso e di materiale del nostro del nostro albero a gomiti qui trattasi di andare a valutare la resistenza meccanica dell'attrezzatura di stampaggio quindi un'analisi a stampo deformabile accoppiata nella quale andiamo a deformare nella medesima nella medesima simulazione sia la billetta e sia le attrezzature cioè andiamo a vedere in simultanea diciamo il carico termo meccanico dato dalla billetta verso gli stampi ecco che i principali risultati che possiamo andare ad analizzare sono la deformazione dello stampo quindi andiamo a vedere lo spostamento in millimetri della superficie nelle tre direzioni della superficie dello stampo e ad esempio un risultato come la tensione equivalenti di von Mises che mi va a identificare possibili zone di plasticizzazione del nostro componente quindi se io vado a guardare la mappa di von Mises sullo stampo e confronto la tensione registrata con la tensione di snervamento di quell'acciaio costituente lo stampo che ha subito quel trattamento termico e siamo presenti a quella temperatura ecco che questa indicazione mi permette di valutare possibili rischi di plasticizzazione altri risultati che possono essere analizzati sono sicuramente la prima tensione principale che mi indica le zone di massima frazione ricordiamoci che nel caso di acciaio di stampi in acciaio la rottura se rottura meccanica si tratta avviene per sforzi di frazione quindi una simulazione mi permette di andare a valutare quelle che sono le zone a più alto valore di tensione principale non solamente il valore numerico ma anche le direzioni quindi in maniera tale da capire in che direzione si può venire a formare lungo che direzione si può venire a formare una una cricca che può portare poi a sedimento delle mie attrezzature non solamente il carico meccanico da un punto di vista di analisi di plasticizzazione o analisi di rottura così dire immediata ma anche analisi di fatica fatica che essendo uno stampaggio a caldo è di tipo termomeccanico ecco che è stato messo a punto un modello implementato in forge che è il software di simulazione che engine soft utilizza per queste attività modello di fatica sviluppato dal rwth di akim che tiene conto sia della deformazione meccanica che della deformazione termica come possiamo vedere impostando un'analisi di tipo elastico la deformazione meccanica è data dalla tensione di trazione quindi la tensione principale su diviso il modulo elastico del materiale la deformazione termica è dato al coefficiente di dilatazione del materiale per il salto termico a cui è sottoposto il mio stampo la combinazione di queste due deformazioni attraverso dei coefficienti caratteristici del materiale mi fornisce un'indicazione del numero di cicli necessari alla formazione della cricca questo modello è stato validato su un set di diversi set di stampi per stampaggio di alberi a gomiti e come è possibile notare il software ha correttamente valutato la posizione e la direzione delle della formazione delle cricche nonché anche la valutazione ha correttamente valutato previsto diciamo il numero di colpi prima del raggiungimento delle condizioni critiche finora si è parlato di progettazione delle attrezzature da un punto di vista dell'usura della fatica termomeccanica dei rischi di plasticizzazione senza valutare quella che è l'influenza poi sul componente sul componente finale cambiando settore passando dallo stampaggio a caldo allo stampaggio a freddo un esempio ci viene fornito da boloff boloff leader uno dei leader mondiali dello stampaggio di vitteria e minuteria metallica problematica un punzone per estrusione inversa presentava fenomeni di deflessione laterale che potevano arrivare a due decimi più decimi di millimetro questo ovviamente influenzava la resistenza dell'attrezzatura perché andando a creare uno sbilanciamento quindi una flessione del nostro punzone ecco che la durata stessa a fatica dell'attrezzatura sarebbe stata sicuramente inferiore ma oltretutto provocava delle problematiche di qualità sul componente stampato attraverso la simulazione attraverso l'unione di un CAD parametrico con FORGE quindi di un software di simulazione dedicato alle operazioni di deformazione metalli ecco che è stata parametrizzata la geometria del punzone in termini di raggio di raccordo e di angolo di testa il software è andato a fare diverse combinazioni dato a sviluppare diverse combinazioni di questi due parametri fino a raggiungimento di la condizione per lui ottima condizione che da un angolo di testa di 20 gradi si è portata a un angolo di 10 gradi da un raggio di raccordo di tre decimi si è portato a un raggio di raccordo di sette decimi ecco che questa variazione ha portato a una riduzione della deflessione laterale del nostro punzone che vediamo riportata qui da due decimi a circa tre centesimi e sei conseguentemente una riduzione di circa cinque volte della deflessione massima noi abbiamo parlato di resistenza delle attrezzature oltre alla variazione geometrica delle attrezzature quindi raggi di raccordo smussi angoli di spoglie e così via possiamo sviluppare altre tecniche al fine di migliorare la resistenza meccanica delle attrezzature e migliorare la durata stessa delle attrezzature una di queste metodologie è il blindaggio dell'attrezzatura di stampare quindi andare a precaricare con sforzi di compressione le nostre attrezzature al fine di mantenerle in un campo di deformazione un campo di tensione diciamo abbastanza ridotto in termini di trazione durante la fase di stampaggio questo è un approccio molto utilizzato quando parliamo di attrezzature metallo duro metallo duro quindi carburo di tungsteno o matrice cobalto come come legante ad esempio cosiddetta vidia lavora benissimo delle fantastiche fantastici valori di resistenza d'usura lavora molto bene a compressione essendo un agglomerato di materiale lavora in maniera pessima attrazione non ha praticamente resistenza attrazione quindi se noi vogliamo utilizzare degli inserti delle matrici degli stampi metallo duro è buona regola andare a blindare da via precomprimere in degli anelli di di blindaggio solitamente in acciaio in maniera tale che un anello esterno vada appunto a comprimere in direzione circonferenziale il nostro un altro tensile in metallo duro mantenendolo in uno stato di compressione quando poi questo materiale questo inserto andrà a dilatarsi a causa delle pressioni generate internamente dal materiale in deformazione ecco che ci manteremo nella migliore delle ipotesi in campo di compressione nella peggiore delle ipotesi in campo di trazione ma con valori sicuramente più bassi rispetto a un inserto lasciato per così dire libero il blindaggio dell'attrezzatura però non è cosa così semplice da gestire perché come possiamo vedere qui un anello poco blindato o meglio un inserto poco blindato come abbiamo visto come abbiamo detto si porta in un campo di trazione quando al suo interno il materiale in stampaggio va a spingere ed ecco che si vengono a creare delle fratturazioni se viceversa una del in metallo duro viene troppo blindato ecco che le problematiche ce le abbiamo sugli anelli di contenimento perché a quel punto questi anelli presentano già in partenza degli sforzi di trazione importanti quando poi il materiale in deformazione va a spingere e va a far dilatare l'inserto ecco che le tensioni aumentano ulteriormente e si rischia il cedimento dell'attrezzatura la simulazione mi dà una grandissima mano nel capire come e quanto blindare le mie attrezzature un esempio qui il software mi permette di valutare ed ottimizzare il numero di anelli di contenimento i materiali costituenti sia gli inserti che gli anelli di contenimento e le relative interferenze come vedremo tra un attimo porto un esempio abbastanza particolare che è un caso di axial forming il processo di axial forming permette di ottenere questa tipologia di componenti direttamente alberi dentati con un processo che è simile all'estrusione ma invece di applicare la deformazione tutto in una singola passata l'utensile ha un andamento oscillatorio e a piccoli step avanza creando la dentatura noi possiamo vedere quelle che quello è l'andamento delle forze assiali sul sul utensile che in questo momento sta oscillando da destra verso sinistra qui necessario sicuramente valutare la corretta geometria dell'utensile e i parametri di formatura la corsa la corsa di avanzamento la frequenza da un punto di vista dell'attrezzatura ecco che noi possiamo valutare come abbiamo visto prima fenomeni di usura quindi una simulazione ci permette di analizzare quelle che sono le zone a più alto rischio di usura e quelle che sono le zone a più alto più alta tensione di o tensione di bomises o prima tensione principale quindi la tensione di massima attrazione in particolare quest'utensile essendo in metallo duro dovremmo particolarmente tenere sotto controllo la prima tensione principale mantenendola a dei livelli sufficientemente bassi per non rischiare il cedimento abbiamo parlato appunto del blindaggio trattasi di valutare qual è il corretto blindaggio la corrente di interferenza tra l'inserto dell'utensile in metallo duro e il contenitore il case e l'anello in acciaio maggiore è il livello di interferenza qui abbiamo interferenza da un decimo due decimi tre decimi e quattro decimi sul diametro maggiore è il livello di interferenza e come possiamo vedere maggiore è lo stato di compressione qui stiamo guardando la terza tensione principale nel raggio di raccordo di base del dente zona che è la parte più sollecitata quindi maggiore l'interferenza maggiore lo stato di pre compressione circonferenziale che si traduce in uno stato di maggiore compressione poi compressione nel raggio di raccordo di fondo conseguentemente maggiore è lo stato di compressione e minore come possiamo vedere qui sarà lo stato di trazione iniziale fino a praticamente annullarla meglio iniziare durante il processo di stampaggio che lo scusa quindi maggiore la pre compressione iniziale minore è la tensione di trazione durante il processo di deformazione il rischio come abbiamo detto è aumentiamo troppo l'interferenza ecco che rischiamo fenomeni o di plasticizzazione dell'anello in acciaio di contenimento o direttamente di rottura dell'anello esterno un esempio relativo a questa questo fenomeno è la corretta valutazione del livello di interferenza in questo assieme il caso originale prevedeva un'interferenza diametrale di 4 centesimi e andando a valutare la prima tensione principale ecco che abbiamo dei valori particolarmente elevati sull'anello interno se sottoposto una pressione di 1000 megapascal qui abbiamo un inserto in metallo duro e un anello di contenimento in v300 cosa è stato scelto di fare è stato scelto di aumentare l'interferenza diametrale tra l'anello di contenimento e l'inserto fino a 13 centesimi punto 2 cosa ha permesso questo ha permesso di ridurre come potete vedere notevolmente il campo della prima tensione principale quindi abbiamo ridotto notevolmente gli stress a trazione sull'anello interno a beneficio sicuramente della sua della sua durata ma se facciamo uno zoom ecco che abbiamo creato dei tensionamenti importanti dal punto di vista sempre di prima tensione principale sui fori di fissaggio dell'anello esterno di contenimento al contenitore conseguentemente questa attrezzatura andava poi a rompersi non più nel lato di l'inserto ma dal lato di anello di blindaggio come detto la simulazione mi permette di fare delle prove nel virtuale al fine di trovare i corretti materiali i corretti i valori di interferenza e il corretto numero di di anelli ciratizit uno dei principali produttori di utensili per lo stampaggio di metalli ha fatto appunto questo ha scelto di affidarsi in gene soft attraverso i software di simulazione per sviluppare analisi delle attrezzature ottimizzare queste attrezzature se non punto di vista dei forme di parametri di processo e di mettere quindi in campo un'attività di co design con i propri clienti al fine di fornire attrezzature correttamente progettate per lo specifico processo processo produttivo per concludere l'applicazione della dei processi della simulazione numerica nell'attività di progettazione di attrezzature mi permette sicuramente di eliminare o più ridurre l'approccio trial and error riduzendo quindi i costi degli attrezzaggi e aumentando la vita utile delle attrezzature avendo poi di riflesso anche delle migliori performance di prodotto come abbiamo visto il caso bollof se noi miglioriamo il comportamento delle attrezzature ecco che otteniamo anche di componenti migliori da un punto di vista qualitativo non solamente vantaggi tecnici ma anche vantaggi aziendali perché noi possiamo ridurre il time to market in quanto non dobbiamo fare grandi tante prove sulla messa a punto delle attrezzature riusciamo a fare anche delle preventivazioni più rapide e precise perché quando noi andiamo a fare la preventivazione con il nostro cliente dobbiamo già tenere a mente quelli che sanno i costi delle attrezzature non solamente i costi della manodopera del materiale dell'energia e così via riusciamo a condividere il know-how in quanto sicuramente nelle aziende di stampaggio vi sono delle persone di lunghissima esperienza estremamente valide da un punto di vista della progettazione delle attrezzature che però hanno un know-how personale frutto appunto dell'esperienza attraverso la simulazione riusciamo a implementare in azienda un linguaggio condiviso che ci permette di distribuire queste informazioni tra tutti i tecnici e riusciamo a mettere a punto delle attività di co design favorendo il dialogo tra chi stampa e chi utilizza il componente componente stampato bene con questo io ho concluso io vi ringrazio per la vostra partecipazione e per la vostra attenzione rimango a vostra disposizione per eventuali domande o commenti in merito a quanto avete visto in questa presentazione o qui o qui ci sono i miei riferimenti potete contattarmi separata sede per valutare eventualmente anche il vostro specifico caso da alla низa Grazie a tutti